Centro studi chiuso al traffico veicolare. È in arrivo una settimana di penitenza per tutti. Insegnanti, personale della scuola, studenti e genitori, tutti bloccati al di fuori dell'area rossa. Le transenne sono già pronte via Bac, via Schubert, via Santa Croce, strada Travettore. Accesso vietato dalle 7 alle 8 e mezza e dalle 12 alle 14, ovvero nelle ore di punta. Stop obbligato in Viale Rosmini oppure in Via Sibelius. Chi arriva con l'auto sarà costretto a parcheggiarla nell'area farmacasa o al campo di atletica o addirittura al parcheggio Gerosa. E poi tutti a piedi, anche chi arriva in motorino sarà costretto a scendere e a raggiungere la scuola portando a mano lo scooter o la moto. I due parcheggi, tra l'altro sempre pieni di via Bac, saranno raggiungibili solamente al di fuori degli orari di ZTL. Per assurdo quando tutti saranno già a scuola e le auto parcheggiate chissà dove. E poi ci sono i genitori che arrivano a prendere i figli, dove si fermeranno con l'auto per aspettarli, tutti in Via Sibelius o lungo la già congestionata Via Rosmini. Ma che senso ha tutto questo? La gran parte di coloro che arrivano in macchina in centro studi sono persone che risiedono fuori città e che di certo non prenderanno la bicicletta per andare a scuola. Servirà a riflettere sul traffico, ma che il risultato sarà invece quello di peggiorare la situazione, impedendo alle auto di defluire velocemente. Ma perché complicare la vita alle persone quando nessuno si è mai lamentato della situazione parcheggi o del traffico nella zona del centro studi? A volte certe scelte proprio non si riescono a capire e speriamo che la storia si fermi alla sperimentazione della prossima settimana, altrimenti per tutti sarebbe davvero pesante.